Ai soccorritori ha detto di essersi, inavvertitamente, sparato un colpo di fucile ad un ginocchio. Così un cacciatore di 57 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Careggi. È successo domenica mattina durante una battuta di caccia al cinghiale nei boschi di Castelfo Cognano, in località La Greta. A lanciare l'allarme è stato il compagno di battuta. Sul posto sono così dovuti intervenire non solo automediche d'ambulanza del 118, ma anche soccorso alpino e vigili del fuoco. Il cacciatore è stato stabilizzato dal medico dell'emergenza sanitaria e poi trasportato da Drago, elicottero dei vigili del fuoco, sino all'elisoccorso Pegaso, che non era riuscito ad atterrare in prossimità del ferito, da qui il trasferimento all'ospedale Fiorentino. Grazie.